ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati sul mio canale io sono claudia e oggi realizziamo insieme un nuovo progetto una nuova borsa in lana invernale e questa volta non con l'uncinetto ma con i ferri circolari quindi cambiamo leggermente poi ovviamente il sistema andremo a realizzare un tubolare che infileremo fisseremo sopra questa scocca che ha la vaschetta in vera pelle quindi per chi magari non fosse tanto pratico dei ferri oppure preferisce la lavorazione all'uncinetto la può assolutamente riportare e fare anche all'uncinetto lavorando le maglie in costa come adesso vi farò vedere e si può tranquillamente anche trasformare quindi magari per chi vuole cambiare un po e vuole fare una lavorazione ai ferri ed è capace e vuole cimentarsi in questa in questa avventura può seguire proprio il tutorial tutti gli altri possono realizzare comunque la stessa identica borsa anche lavorandola all'uncinetto quindi veramente molto molto versatile andremo quindi realizzare una una borsa ci occorre la scocca come vi dicevo prima con la vaschetta insieme il pelle un una chiusura in questo modo che ha i fori per la cucitura e la chiusura a cartella con l'altra parte ci serviranno due scudi laterali dove andremo ad attaccare il manico e il manico tutto questo è realizzato in vera pelle non c'è un kit sul nostro sito www.mercediamali.it non trovate un kit con tutto il materiale all'interno noi teniamo i pezzi singoli e la borsa la dovete comporre voi andando a scegliervi tutte le piccole parti questo perché magari se qualcuno a casa avesse già la chiusura una vuole usare un'altra e decide di non comprarla può scegliere di non prenderla oppure di metterne un'altra e potete un po montarvi la borsa come volete scegliendo i pezzi di cui avete bisogno se invece volete farla un quale identica potete scegliere tutti i pezzi quindi in descrizione del video vi lascio il link dove trovate tutto il materiale che è stato utilizzato ma se voi andate sul sito non troverete un kit completo dovete mettere voi nel carrello tutti i vari pezzi che servono per realizzare questa borsa in caso contrario potete anche sempre contattarci tramite mail o quant'altro e vedremo di fare questo lavoro insieme ok però troverete tutti i pezzi singoli non un kit completo come sempre ve lo ribadisco ma ormai sicuramente chi mi segue lo saprà già tutte le parti in vera pelle le realizziamo noi attigionalmente e come già vi dicevo vi anticipavo le potete acquistare sul sito www.mercediamare.it per questo progetto andremo ad utilizzare la lana questa lana la comfort new è una lana 70 per cento merino se 30 acrilica quindi ha la sua componente acrilica che è adatta appunto per realizzare le borse è una lana molto grande come la tendenza di quest'anno che prevede le lane molto grandi e andremo a lavorarla con dei ferri circolari come dicevo prima numero 7 quindi proprio grossi occorrono tre gomitoli di lana per realizzare la borsa il tubolare che dovremmo andare a fare io ne ho utilizzati tre gomitoli interi proprio le ho usati tutti e questo è l'elenco del materiale vi dicevo prima che andremo a realizzare un tubolare in maglia vedete così a coste a due a due che adesso vi farò vedere appunto nel tutorial per chi non volesse realizzare la borsa ai ferri ma la volesse riportare all'uncinetto dovete avviare semplicemente una serie di catenelle e chiuderla cerchio basandovi sulla scocca quindi le catenelle devono fare tutto il giro della circonferenza della scocca chiudete le catenelle con una maglia bassissima formando un cerchio e lavorerete tutta in tutte le maglie per fare una lavorazione come questa tipo costa potete lavorare due maglie in costa davanti e due maglie basse in costa davanti e due maglie basse in costa dietro ripetete questa questa lavorazione la otterrete veramente molto simile e si può riproporre anche appunto all'uncinetto detto questo vi lascio subito al tutorial allora quello per iniziare dobbiamo avviare le maglie quindi io vi consiglio di prendere dobbiamo tirare una guagliata di lana io passo così dieci volte quindi una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci e poi fate anche un pezzo in più e questa è la fila che dovete tenere da parte e che vi servirà per mettere le maglie tenetene comunque sempre meglio un pezzo in più che sia abbondante piuttosto che sia stretto perché se poi alla fine non vi basta dovete dispare le maglie a ricominciare da capo quindi meglio comunque sempre una una fila più lunga che una più corta dopodiché facciamo un cappietto che andiamo inserire nel ferro voilà posizioniamo il filo sulle dita e andiamo a mettere le nostre maglie dobbiamo avviarne 90 o comunque se volete fare la borsa di altre misure vi serve comunque sempre un multiplo di due ok quindi un numero pari procediamo in questo modo a mettere tutte le maglie avviato il numero di maglie desiderato quindi nel mio caso 90 andiamo a mettere un marker ok qui nel ferro e andiamo ancora a montare una maglia quindi dopo aver montato ancora una maglia dopo aver messo il marker spostiamo questa maglia sull'altro ferro andiamo a prendere le due allora innanzitutto ci assicuriamo che le maglie nel nostro ferro siano girate tutte nello stesso senso perché altrimenti chiudiamo il cerchio nel modo sbagliato ok una volta che ci siamo assicurati di ciò andiamo a prendere le prime due maglie in questo modo quindi la prima maglia più quella che abbiamo spostato e lavoriamo un dritto in questo modo poi mi si è tolto il marker voilà in questo modo e lavoriamo il nostro primo dritto e abbiamo in questo modo chiuso il cerchio e possiamo prendere la nostra lavorazione allora una volta unito il nostro cerchio abbiamo la lavorazione a costa 2 a 2 quindi abbiamo fatto un dritto che è il primo punto facciamo la seconda maglia la lavoriamo di nuovo diritto dopodiché lavoriamo due rovesci poi di nuovo due diritti poi faremo di nuovo due rovesci due diritti due rovesci e così via per tutto il giro quindi alterniamo sempre due dritti due rovesci due diritti e due rovesci perché dobbiamo andare a lavorare le nostre coste una volta terminato il giro facciamo passare il marker e riprendiamo a lavorare esattamente i punti come si presentano ovvero abbiamo iniziato il giro facendo due dritti e adesso continuiamo quindi partiamo di nuovo lavorando due maglia dritto esattamente sopra le due già lavorate voilà dopodiché passiamo a lavorare due rovesci poi di nuovo facciamo due dritti a seguire due rovesci poi di nuovo due dritti e così via per tutto il ferro e per tutti i ferri successivi nel senso che andremo a lavorare un tubolare a coste e quindi dobbiamo proseguire in questo metodo con questo metodo fino ad aver ottenuto l'altezza desiderata lavorando sempre due dritti due rovesci due dritti e due rovesci al termine del giro esattamente come abbiamo appena fatto qui si continua in questo modo e si andranno a fare sempre i dritti sopra i dritti e i rovesci sopra i rovesci continuando così a girare in tondo e creando questa lavorazione a coste guardate ho terminato di realizzare il tubolare e che in totale è alto 23 cm e ho chiuso la lavorazione normalmente lavorando tutte le maglie dritto e quindi ho creato questa sorta di bordino vedete? e ho chiuso tutte le maglie a diritto quindi questa è la lavorazione che dobbiamo fare per avere il tubolare per chi dovesse fare il tubolare all'uncinetto potete avere questo bordino semplicemente facendo un giro di maglia bassissimo adesso andiamo a sistemare il tubolare nella scocca quindi prendiamo la scocca e andiamo a inserirlo e voilà eccolo sistemato adesso dobbiamo vedere come andare a fissarlo vedete che abbiamo i fori di cucitura qui in cima e anche qui al fondo e dobbiamo andare a fissare il nostro tubolare alla scocca perché resti bello fermo quindi adesso vi faccio vedere appunto come fare allora vedete che vi ho detto che avevo chiuso la lavorazione del tubolare qui a dritto in modo che le maglie formassero questo bordino ecco il bordino va messo contro la vaschetta perché in cima dove il bordino non c'è andremo a farlo noi adesso con l'uncinetto mentre attacchiamo il tubolare alla scocca infatti dobbiamo riprendere in mano il nostro amato uncinetto e andremo ad attaccare il tubolare a maglia bassa quindi entriamo nella parte lavorata a maglia nel foro della scocca vedete che sono fuoriuscite nel foro con l'uncinetto estraiamo il filo e andiamo a fare una maglia bassa che lavorandola va a creare in cima questa specie di bordino veramente molto simile a quello che abbiamo qui al fondo ok quindi procediamo in questo modo quindi entriamo nella maglia entriamo nel foro della scocca e facciamo una maglia bassa in modo da fissare la parte lavorata in questo modo quindi procediamo così per tutta la circonferenza allora una volta che abbiamo finito quindi di attaccare in tutti i fori la nostra borsa diciamo lavorata attaccata alla scocca quando abbiamo finito di fare questo giro di maglia bassa dobbiamo andare ad attaccare gli scudini laterali allora vedete che io ne ho già attaccato uno e adesso vi mostro come si attacca l'altro allora innanzitutto la borsa potrebbe stare così cioè vedete stare in fuori io però voglio che venga un modello più tipo a sacca e vedete che l'ho fatta chiudere in questo modo con questa rientranza vado a pizzicarla in questo modo e attacco lo scudino in modo che la borsa resti chiusa sul laterale esattamente come vedete da questa parte vedete che la borsa si stringe un po' e sembra quasi una piccola sacca ok quindi voglio fare la stessa cosa anche dall'altra parte per fare questo andiamo vedete a far rientrare la scocca qui dove ha la cucitura la andiamo a pizzicare in questo modo con le mani la terremo così pizzicata mentre andremo a cucire il nostro scudino quindi non è che l'allarghiamo tutta per attaccarlo in questo modo ma la andiamo a stringere leggermente in modo che lo scudino lo andiamo ad attaccare così con la borsa leggermente chiusa ok? dopodiché dobbiamo unirci della lana con cui abbiamo lavorato il tutto e una gotilla fettuccia ho fatto un bel nodo al fondo e adesso andiamo ad attaccare lo scudino altra cosa fondamentale abbiamo attaccato il tubolare della nostra borsa solo in cima al fondo no e non fatelo fino alla fine perché vi servirà per passare la mano e attaccare ad esempio questi e poi la stessa cosa per attaccare la chiusura quindi la cucitura qui al fondo la vedremo per ultima e non dovete farla subito altrimenti dopo non riuscite più ad attaccare queste parti ok? quindi come vi dicevo vado a chiudere qui tengo fermo con le mani posiziono il mio scudino in questo modo che l'occhiello resti fuori e i buchi tutti all'interno passo con l'ago all'interno perché devo fermare il nodo vedete che faccio passare la mano da fuori se l'avessi cucito non riuscirei cioè da sotto ed esco qui in cima e passo con l'ago nel primo foro tiro 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 il nodino mi blocca il filo in questo modo passo nel foro a fianco passo nel corpo borsa recupero l'ago con la mano da sotto in questo modo vedete adesso rientro ripasso nell'altro foro con l'altra mano sto sempre tenendo la piega potete anche aiutarvi pinzandola con una pinza con dei marca punti con qualcosa se volete avere entrambe le mani libere questo vedete che entro ed esco passando dalla parte lavorata a maglia e infilando la mano da sopra una volta che siete arrivati qua in cima torniamo indietro e andiamo a passare in tutti gli spazi vuoti che abbiamo lasciato quindi vedete che punto all'ingiù recupero l'ago da sotto e tiro in questo modo andando a completare i punti adesso rientro qua e passo qui e andiamo a completare la cucitura proseguo in questo modo allora una volta attaccati gli scudini vedete che sono andata ad inserire il manico ho infilato i moschettoni negli occhielli predisposti adesso vediamo come attaccare la chiusura quindi una volta individuato il centro la chiusura si attacca nello stesso identico modo che abbiamo visto quindi prendo sempre una guagliata di filo con la coltira fettuccia ho fatto un modino al fondo passo da sotto ed esco con il filo poi potete fare o i punti in orizzontale o in verticale un po' come volete voi magari io li faccio in orizzontale fa lo stesso l'importante è che andiamo a fissare la piccola patellina se volete per maggior rinforzo possiamo ancora anche passare qui e fare anche due punti in verticale in modo da completare e voilà ecco che abbiamo terminato anche cucendo questa parte quanto riguarda la parte bassa della chiusura vi metterò i fori predisposti nella scocca e dovete semplicemente inserire le linguette all'interno mettere la placchetta di metallo in dotazione e schiudere le alette insieme non so se si vede bene comunque questo è il risultato ok e vedete che voilà la chiusura è fatta e abbiamo praticamente quasi terminato la nostra borsa dobbiamo solo più andare a fargli la cucitura qui al fondo e adesso vi faccio vedere come questo è tutto quello che ho avanzato del terzo gomitolo che vi avevo detto che avevo utilizzato tre gomitoli di lana in totale questo è l'avanzo finale che ci basta giusto giusto per fare l'ultima cucitura adesso forse è persino esagerata la vogliata è veramente lunga bisognerebbe tagliarla comunque facciamo sempre un nodo ci infiliamo nel nostro ago tira fettuccia perché la parte finale della nostra borsa l'ultima che vi avevo detto di andare a cucire quindi questa nei fori disposti va attaccata con l'ago e non con l'uncinetto perché è la parte finale appunto e diversamente non si riuscirebbe quindi mi infilo con l'ago in un foro aspetta che iniziamo da qui tanto fa lo stesso in modo che così mi vediate bene allora mi inserisco con l'ago in un foro e poi passo nel bordino della catenella lavorata a maglia e tiro mi raccomando il punto di cucitura facciamolo passando aspettate facciamolo passando nel bordino a catenella per evitare che si veda il punto nel mezzo della lavorazione che starebbe male a mio parere avevo fatto un nodo troppo piccolo allora ci inseriamo quindi in un foro e nella catenella così e tiriamo dopodiché entro nella catenella a fianco e nel foro corrispondente e così via quindi adesso sbuco di nuovo nel foro a fianco rientro nella catenella corrispondente al foro in questo modo poi entro nella catenella a fianco ed esco nel foro a fianco e vado a cucire tutta la circonferenza della borsa all'inserto dopodiché abbiamo definitivamente completato questo progetto procediamo in questo modo per tutti i restanti fori a cucire a cucire la parte finale della borsa ovviamente non ve l'ho detto ma ho aperto la borsa e per riuscire a cucire infilo la mano all'interno e con l'ago esco nei vari fori ma mi sembra abbastanza intuitiva la cosa ok? quindi finiamo di cucire e dopodiché abbiamo terminato questo progetto di cui mi sono veramente molto 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 soddisfatta grazie a tutti